Amici e amici del Corner Sampdoriano, eccoci qua, terza sconfitta in tre partite, notavo questa cosa ma non è un bel dato, la Sampdoria sta iniziando a fornirci un po' di materiale all'interno della collezione di sconfitte dai contenuti diversi, sconfitte pienamente meritate, sberloni, figuraci anche di punteggio come con l'Atalanta, sconfitte possiamo usare la parola immeritate, è una consolazione decisamente magra ma questo è l'aggettivo che associerei a questo Sampdoria 1 Juventus 3, quindi ci aspettavamo la reazione da parte di una squadra chiesta anche dagli ultras, una reazione da uomini veri, meno parole, più fatti, più prestazioni, più impegno e più dedizione alla causa, questo secondo me oggi c'è stato, ci si chiedeva anche nella chat interna del Corner Sampdoriano appunto su Whatsapp se una sconfitta del genere è più propensa ad abbatterti in vista dei prossimi, soprattutto del prossimo cruciale impegno, oppure può darti delle basi al di là del risultato da cui ripartire e il dibattito in questo senso è aperto, io probabilmente preferisco perdere ma con qualcosa da cui ripartire, è anche vero che dopo le figuracce sei costretto a reagire e questo effettivamente oggi è successo, dopo le figuracce di Bergamo e Udine. Allora, Sampdoria Juventus arrivava a Marassi, una squadra strana, cioè quella che i risultati dicono essere la più in forma delle ultime quindici partite, la Juventus di quel vecchio Volpone di Max Allegri, che però non sempre, anzi quasi mai, dà l'impressione di dominare le partite e direi una squadra che ottimizza le sue prestazioni e le sue gestioni delle gare, raramente ruba l'occhio dal punto di vista della proposta di calcio e offensiva, oggi tutto ciò si è concretizzato nella sua impurezza, direi, nella Juventus di Allegri che però mette i suoi giocatori, le sue individualità nelle condizioni ideali per esprimersi e anche poi per gestirsi, non dimentichiamoci che evidentemente la Juventus doveva anche un po' risparmiarsi in vista del prossimo turno di Champions, il ritorno contro il Villareal. Quindi, dal punto di vista tattico, Allegri non aveva tante scelte, ha deciso di rinunciare a Vlaovic dall'inizio, l'ha messo nel finale di partita senza che il serbo entrasse nel tabellino o comunque nelle occasioni principali della Juve, quindi copia d'attacco Morata-Kin e un 4-4-2 leggermente sbilanciato perché c'era Rabiot a sinistra un po' più stretto e Quadrado largo a sgasare quel tanto che è bastato a destra per creare scompiglio nella retroguardia blucerchiata. Il centrocampo della Juve aveva, o meglio le soluzioni della Juventus, erano abbastanza basiche e elementari a livello di proposta, nel senso che, è vero, partivano Artur e Locatelli potenzialmente doppio play, si dividevano bene però la mediana, nel senso che non rimanevano mai piatti in fase di impostazione, Artur si abbassava in mezzo ai centrali che oggi erano Rugani e Delict per impostare e per far uscire nella prima impostazione, nella prima costruzione il gioco della Juve, Locatelli invece si alzava un po' di più e andava quasi a fare la mezzala di inserimento, a fare il trequartista, spesso sbucava alle spalle di Rincon. L'alternativa per la Juve, e ogni tanto ci ha provato la squadra di Allegri, era come da insomma proverbiale contromossa al 4-3-1-2 di Giampaolo molto stretto, l'esplorazione degli esterni cercando di spostare palla sul lato debole velocemente con i cambi campo, questo a volte è riuscito. rispondeva alla sample di Giampaolo con la scelta di Rincon appunto come mediano nel 4-3-1-2, rientro di Torsby come mezzala sinistra, Candreva intermedio dall'altra parte, Sensi dietro a Quagliarella e Caputo, insomma poche novità. Augello in difesa al posto di Murru. Io partirei dagli episodi, dai due gol, penso che dai primi, insomma dalle reti che hanno portato il risultato, l'hanno spostato sul 2-0 con cui si è chiuso il primo tempo, vera e proprio ammazzata, tra l'altro con il minuto del giro di Boa del primo tempo, il 22, in cui si è visto il primo tiro in porta della Samp a suggellare un inizio di gara confortante da parte dell'undici blucerchiato, che però è coinciso anche con l'azione praticamente sul ribaltamento di fronte del 1-0 della Juve. Negli episodi dei due gol della Juve, gravi responsabilità singole purtroppo e io mi concentrerei, raramente lo faccio e non voglio buttare la croce addosso a nessuno, però mi è emerso agli occhi questo dato, la responsabilità di Omar Colle in entrambi i casi, perché è vero che l'autogol che sblocca la gara lo segna Yoshida, ma avrebbe potuto fare veramente poco altro, perché se non la prende lui, la prende il giocatore della Juve dietro di lui, che credo fosse Morata, ma non ne sono sicurissimo, ma poco importa. Però l'azione si sviluppa appunto con un lancio da parte di Rugani, che raccoglie quel pallone dopo l'azione concitata alla parata di Cesni sul tiro da fuori di Candreva. Su quel lancio lì viene Keane incontro, dentro la tre quarti della Samp, e Colle va duro e deciso, sembrerebbe, per anticiparlo, ripeto, dentro la tre quarti della Juve, invece Keane mette il corpo, Colle non commette fallo, va completamente a vuoto, meglio sbatte contro l'ex attaccante del Paris Saint Germain, che dà una sponda all'indietro per Locatelli, se non ricordo male, da lì parte la 4% della Juve, che mette in moto Quadrado, Quadrado quella cosa lì, la fa benissimo la difesa della Sampdoria, a quel punto deve scappare indietro, è costretta a farlo, e se il cross di Quadrado da lì è fatto bene in quel modo, diciamo, contromisure ce n'è poche, il rischio di prendere gol è molto alto, in quel caso succede. Colle è protagonista anche, chiaramente, nell'episodio che determina il 2-0, lui commette il fallo da rigore ancora su Keane, però, e qui allargherei le responsabilità a tutta la fase difensiva blucerchiata sul 2-0, che mi sono andato a rivedere da come origina l'azione, perché poi il rigore, insomma, è un episodio che purtroppo dentro l'area, coi rimpalli, i contrasti, ovviamente più bravo Keane della difesa della Sampdoria, che peraltro era sostanzialmente in superiorità numerica in quel fattispecie, però è tutto molto veloce, purtroppo il rigore in quella circostanza, tra virgolette, ci può scappare. È molto grave, secondo me, quello che succede prima, perché, abbiamo detto di come costruiva la Juve, Locatelli si abbassa e si fa dare palla dalla difesa, superato quindi, superata la prima pressione della Samp, superati i due attaccanti più sensi, Locatelli ha tutto il tempo per girarsi, siamo ancora nel metà campo della Juve, guardare la linea difensiva blucerchiata, vedere l'attacco della profondità di Keane e servirlo con una palla lunga. Ho fermato l'immagine in quel momento e la linea difensiva della Sampdoria è schierata in maniera disastrosa, non c'è una linea di fatto e ognuno per conto suo colle in ritardo, quella è una situazione che si deve leggere molto molto meglio prima. Secondo me è veramente una cosa inammissibile a questi livelli e che poi, appunto, incide pesantemente sul risultato perché si prende il 2-0 dentro il primo tempo e a quel punto la partita diventa una salita impossibile da scalare. Colli parte in ritardo, chi gli scappa, poi l'azione si sviluppa, ne nasce il rigore, Morata lo trasforma e appunto parte un secondo tempo che però in realtà la Sampdoria interpreta senza sbraccare, restando dentro la partita, rischiando poco, raramente, dando poco campo anche alle ripartenze della Juve che si prende il mini in indispensabile. Giampaolo prima della gara ha detto che è una squadra che sa prendersi quello che vuole ed è probabilmente la miglior squadra del campionato nell'interpretare i momenti. Dopodiché va detto anche, insomma, a merito della Sampdoria di aver interpretato una gara dove era difficile fare meglio nei 90 minuti, certo sono mancati dettagli decisivi e mi riferisco ai comportamenti difensivi nell'azione dei primi due gol. Il terzo per quando arriva è un po' più accettabile il modo e il momento in cui arriva, certo è anche quella una mazzata perché la Sampdoria sembrava averla riaperta questa partita, ha sbagliato anche un rigore con Candreva, è la partita in cui la Samp ha tirato di più in stagione, 16 tiri contro i 5 della Juve, di più ne aveva fatti soltanto nella gara interna contro la Lazio che però chiaramente si era messa molto male da subito e la Lazio aveva passato molto tempo nella ripresa in 10 contro 11 per l'espulsione di Milinkovic-Savic. È stata anche la gara in cui ha calciato più calci d'angolo, 8 a 0, anche questi insomma sono dati che vogliono dire poco ma messi un po' insieme ci confermano, almeno mi confermano che l'interpretazione è stata giusta e appunto non era, era difficile metterci di più visto appunto certo bisognava fare di più e meglio negli episodi decisivi dentro le due aree, trasformando il rigore la partita si sarebbe riaperta un pochino prima. Parlando un po' dei singoli detto di Colli, Augello l'ho visto ancora sicuramente molto lontano dal giocatore che abbiamo saputo apprezzare con Claudio Ranieri in panchina ed è anche fisiologico perché insomma Giampaolo in settimana l'ha ufficializzato, ha detto che Tommaso Augello è stato spodestato dalla titolarità semplicemente per il fatto che Murru già conosceva i movimenti della linea a quattro e questo può essere un tema insomma interessante. A me non è piaciuta tantissimo questa scelta di Giampaolo che però come ha detto lui stesso in settimana sa benissimo dove è arrivato, dove si trova e se evidentemente lui crede che per il bene della squadra sia meglio schierare un giocatore che quei movimenti li conosce lo fa anche al netto di valori tecnici assoluti che insomma credo siamo tutti d'accordo pendano dalla parte di Tommaso Augello che oggi alla fine ha spinto non insomma con un po' di intermittenza non mi sono piaciuti un paio di retropassaggi un po' killer verso un po' suicidi verso Falcone. Dall'altra parte partitone secondo me di Beresinski che si è preso anche delle responsabilità dal punto di vista dell'iniziativa palla al piede della manovra che solitamente non gli spettano ma è stato un bel segnale da uno che poi ha chiuso la partita con la fascia di Capitano. Rincon è stata una scelta di cui ho capito il senso dentro il primo tempo un po' insomma non sicurissimo in impostazione qualche appoggio qualche passaggio sbagliato di troppo però è stato fondamentale nel riaggredire subito in avanti e permettere al Sampdoria di difendere in avanti quando la Juve provava a uscire sulle respinte difensive un paio di contrasti un paio li ha persi male però il tempo di andare ad aggredire subito in avanti per cercare di recuperare subito il pallone e non costringere tutta la squadra a correre indietro insomma le aveva scelti bene e da questo punto di vista è stata una scelta che ho capito dal punto di vista dello sviluppo della manovra siamo andati sempre molto molto più a destra dove evidentemente che Andreva Berecinski e Quagliarella prima e anche Giovinco poi si sono inclinati appunto da quel lato insistendo su quelle azioni su quella catena che sappiamo la Sampdoria esplora più volentieri di quell'altra anche perché Torsby un po' per diciamo tendenza sua e un po' anche per credo ordini di scuderia visto che Andreva si allarga molto per non lasciare troppo solo rincontro stava più stretto solitamente la Sampdoria quando attacca a sinistra è un po' un binario morto quello lì prova con diciamo meno in minore apnea da parte di Quagliarella e Caputo rispetto alle gare precedenti hanno un po' più tenuto botta soprattutto Quagliarella con Rugani e Caputo chiaramente ha probabilmente il controllo da parte del di uno dei difessori più forti della Serie A cioè dell'ICT però anche lui ci ha messo quello che gli si chiede certo gli si chiederebbero anche i gol che è da un po' che non arrivano meglio è arrivato l'ultima giornata anche se in modo un po' più estemporaneo però anche loro ci hanno messo tutto sta entrando sta iniziando a capire il contesto Sabiri che ha realizzato la punizione del gol con personalità se l'è presa un po' più interlocutorio il subentro di Giovinco ma è un giocatore che servirà inevitabilmente a cui sicuramente non mancano la qualità e la personalità e i minuti di oggi possono essere utili per farlo inserire nell'ambiente Sampdoria e nelle idee di Marco Giampaolo interessante positiva anche confortante la gara subentro a gara in corso di Trimboli un ragazzo che insomma è entrato si è messo lì a centrocampo scrollandosi immediatamente di dosso eventuali timori eh relativi al insomma al contesto della prima squadra in una gara così pesante così importante aspettiamo nel pomeriggio ha vinto lo Spezia che quindi stacca la Samp di tre punti va ventinove la Samp rimane ferma a ventisei il Cagliari rimane fermo a ventisei e a questo punto fondamentale tanto vedere cosa succede domenica lunedì sera scusate all'Olimpico tra Lazio e Venezia in vista del pesantissimo lunch match di domenica prossima del Penso Venezia Sampdoria 12 e 30 sarà il 20 marzo e bisognerebbe accompagnare la squadra in massa eh per questa gara che vale una stagione poche storie determinante grazie per essere arrivati fin qui a questo video aspetto i i vostri commenti come sempre qui sotto